ben trovati ad una nuova lezione del corso di premiere 2019 sono fabio ambrosi e questa lezione molto breve è dedicata ad un argomento invece molto interessante ovvero dove trovare clip video e audio royalty free che vuol dire royalty free vuol dire che quando volete produrre un documentario piuttosto che un film e piuttosto che un videoclip e vi servono delle immagini che voi in quel momento non avete non è vero che si può andare su internet e prendere tutto gratuitamente no purtroppo o anzi per fortuna dal punto di vista degli autori le fotografie o i suoni o le musiche che ci sono sono su internet spesso sono protette da diritto d'autore vale a dire che chi ha scattato quelle fotografie chi ha girato i video o chi ha composto le musiche chiede una somma per poter utilizzare e sfruttare quel materiale è sempre vero questa cosa no esistono dei siti esistono dei luoghi dove è possibile scaricare fotografie o video o clip audio o effetti audio suoni tipo il rumore dell'oceano cose del genere gratuitamente con il permesso da parte dell'autore di utilizzare quel materiale anche per fini commerciali quindi se dovete fare un film un documentario ecco l'autore in alcuni casi da il consenso ad utilizzare del materiale gratuitamente sul mio sito www.fabioambrosi.it in questo articolo dove trovare clip video e audio royalty free spiego un po come funziona questa questa cosa spiego un attimino che non tutto può essere scaricato e utilizzato liberamente perché giustamente gli autori vogliono poter in qualche modo guadagnare dal loro dal loro lavoro altrimenti probabilmente nessuno comporrebbe più musica o nessuno direbbe più film però vi dico anche dove poter trovare alcuni progetti come questo qui split share che mi permettono di scaricare fotografie o materiale gratuitamente e usarlo gratuitamente liberamente nei vostri nei vostri film nei vostri documentari leggete magari sempre le condizioni di utilizzo che esistono scritte all'interno dei vari siti però ecco ci sono diversi progetti che mettono a disposizione tipo questo qui che si chiama iso republic molto interessante perché anche qui ci sono molti molte fotografie utilizzabili gratuitamente addirittura questo progetto mette a disposizione dei video utilizzabili gratuitamente ok leggete sempre le condizioni di utilizzo che trovate all'interno dei siti se vi serve una fotografia al volo tipo non so roma ok potete utilizzare ovviamente google però attenzione ok non è vero che tutto quello che trovate nella cartella immagini di google è utilizzabile gratuitamente assolutamente no probabilmente questa immagine a un diciamo un autore che non dà il permesso per sfruttare questa immagine per fini commerciali come fare per esempio per trovare una fotografia da poter utilizzare gratuitamente ecco uno strumento nella sezione strumenti che si chiama diritti di utilizzo e all'interno della tendina diritti diritti di utilizzo se cliccate contrassegnata per essere riutilizzata o utilizzata con modifiche ecco google selezionerà soltanto quelle immagini che si chiamano roma che sono state in qualche modo taggate o filtrate o selezionate o indicate dagli autori per essere riutilizzate liberamente e gratuitamente ecco quindi google fa questa distinzione nel momento in cui andate a cliccare questa tendina ricordate non tutto quello che trovate su internet è gratuito non tutto quello che trovate su internet è utilizzabile gratuitamente ecco quindi sul mio sito www.fabbiambrosio.it c'è anche il link ad un altro progetto che si chiama free sound dove potete scaricare suoni da poter utilizzare nei vostri progetti tra questi suoni ci sono anche molti suoni utilizzabili gratuitamente ce l'abbiamo fatta nella prossima lezione parleremo di premiere di come creare un nuovo progetto finalmente entriamo nel vivo con il corso di montaggio con adobe premiere registratevi sul mio canale youtube per restare sempre aggiornati iscrivetevi al canale venite a trovarmi su www.fabbiambrosio.it perché no anche sulla pagina facebook fabbio ambrosi e ci vediamo nella prossima lezione se vi è piaciuto questo tutorial e vi interessa questo corso perché no spargete parola si può dire spargete parola vabbè lo diciamo uguale via alla prossima ciao